La squadra di Logan è in Messico Il resto potrebbe spostarsi al nord Il vice direttore Lorenz dell'NSA Supervisionerà questa missione Ma ricorda, la priorità di Rainbow È proteggere i civili Signori, la situazione è alquanto delicata Abbiamo seguito dei componenti bellici Tra cui alcuni chimici Attraverso il confine messicano Continuerò quando sarete a terra Bene, torniamo in azione Proprio come i vecchi tempi Continuiamo 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 Allora Classica Cabrero. Cogliote. Trafficanti di uomini. Non sappiamo cosa se ne facciano di armi chimiche. Ai Cabrero interessano i soldi, non la politica. NSA non ce l'ha fatta, solo. Il nostro primo agente è sparito, ma ne abbiamo un altro infiltrato sul posto. Il suo compito è confermare che ci siano armi nel magazzino dei Cabrero. Il vostro di entrarci quando lui lo farà. Confermato. In posizione. In posizione. Sono in cima. Vi vediamo dietro. Silenzio, l'uomo. Progetto. L'Evil è arrivato. Invia le immagini di una telecamera a livello strada e l'audio del microbo. Vengo avvitato. Miguel? So, facciamo due passi. Tutto sul sole? No, già è. Ho sparato un gioco. Ho anche investito una sua. Ci creda o no, perfino non è arrivato a perdere. Ma non pensavo di una direzione. Hai perso il lavoro per disordini mentale. Solo un consiglio. Le planimetrie indicano che la stanza di fronte a voi ha due porte. Però se prendete quella di destra vi ritroverete all'esterno e potrete sparare attraverso le finestre. Spitalisti. 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 Sì. Sì. Ricarico! Michael è a terra! Sono sottofugo intenso! Toglierei silenziatori! E che sto sognando, amico! Ci abbiamo pagato un sacco di soldi e tutti presenti senza la merce! Non è certo roba che si porta in giro alla leggera, Michele. Ho quello che vuoi, ma devi dirmi dove... Solo un consiglio, le planimetrie indicano che la stanza di fronte a voi ha due porte. Però se prendete quella di destra, vi ritroverete all'esterno e potrete sparare attraverso le finestre. Aprire e liberare. Subito. Tanto in pericolo neutralizzato. Fare silenzio, pure. Con piacere. Libero. Posizionarsi. Vado in posizione. Posizione. Silenzio. Silenzio. Ho quello che vuoi, ma devi dirmi dove consegnarla. Quanta ce n'è? Tutta. Te l'ho detto che avevo dei contatti. Contatti? Sì, ne sono sicuro. Sì. 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 Tango in distanza. 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 Grazie a tutti 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 Via Grazie a tutti Flash Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo con Grazie a tutti Via Grazie a tutti Tutti Via Grazie a tutti 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 Via Grazie a tutti 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 Via Grazie a tutti 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 Va bene Grazie a tutti 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 Via via Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti Via Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti 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 Via 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti